Hai visto il commento di Justin? Ok, noi siamo dal vivo, ti avverto di questo. Vai, vai. Justin, Justin, che cosa dici Justin? Questa intervista creerà un universo parallelo. Non si può combinare due forze così potenti da non aspettarsi, conseguenza a livello cosmico. Siamo come quelli di Dragon Ball Z, tipo Goku e non so, facciamo la fusione. Beh, come ti dicevo prima, a me piace molto questa cosa, di invitare altre persone che non si sono mai viste insieme. Esatto, esatto. Buonasera a tutti intanto, buonasera, buongiorno a tutte le persone che ci seguono. Abbiamo qui il leggendario Alberto Arrighini, l'italiano automatico che tutti conoscete. Vediamo qua cosa dicono le persone che stanno arrivando. Mancano ormai Graziano e Rocco. Io provo a invitare tutti quelli che vogliono. Esatto, ragazzi. Quando mi ha invitato Davide ho detto non importa quanti impegni ho, il buco lo devo trovare via a posto. Assolutamente perché ne approfitto Davide adesso, come ti ho detto, per farti i complimenti che è da anni che sento persone che mi dicono ascolto questo podcast, podcast italiano. Anche Olly Richards, non so se lo conosci. Olly, lo conosci. Il fondatore di I Will Teach Our Language mi ha detto sto imparando l'italiano, sto ascoltando te e i podcast di Davide, di podcast italiano, mi fa che fai le cose benissimo. Quindi complimenti davvero, sono onorato di essere qua oggi. Grazie, ma infatti mi ricordo che Olly aveva messo podcast italiano in una lista di risorse e questo mi aveva dato un po' di visibilità. Mi aveva fatto molto piacere questa cosa. E niente, Sebastian ci chiede come state? Come stai Alberto? Alberto, inizia tu. Vai. Allora, io sto benissimo, molto molto bene. Mi sto bevendo un po' d'acqua, ho bevuto il caffè e là c'è, non so se si vede Davide, c'è una Bialetti là tra l'altro, il caffè con cui ho fatto. Ah, vediamo se riesco, magari se ti ingrandisco. Là dietro di me c'è la Bialetti con cui ho fatto il caffè, quella italiana. Quindi sto benissimo. Volevo chiederti un po' come... So che hai fatto tanti video, però come hai passato questo periodo? Come stai adesso? Adesso un po' siamo in questo momento in cui il momento peggiore sembra passato, però c'è sempre un po' di incertezza. Tu come stai vivendo adesso e come hai vissuto? Bellissima domanda perché proprio in questo periodo, ti dico la verità, io sono abituato da anni a fare le cose in casa, quindi non è stato un grosso, diciamo, danno a me come persona perché erano anni che facevo tante cose a casa e quindi l'ho usato come un periodo per fare ancora, diciamo, di più le cose legate a italiano automatico, il mio apprendimento, leggere più libri e proprio anche ascoltare tanti podcast, appunto, ma in inglese per continuare anche a tenere l'atteggiamento positivo nelle cose, molto importante questo. Poi ho passato il tempo con mia moglie, ovviamente, che chi non lo sa, mi sono sposato quest'anno, quindi ovviamente sono con lei. Complimenti, congratulazioni, ti rinnovo le congratulazioni. Grazie mille. Aspetto il tuo matrimonio, Davide, se mi inviti. Sì, però, veramente, quindi no, tutto bene, sono stati dei mesi che so che per molti purtroppo hanno proprio toccato il proprio lavoro e quello ovviamente dispiace tantissimo e però ecco, devo dire che personalmente sono stati degli ottimi mesi dove ho fatto ancora di più di quello che pensavo, che mi sono concentrato proprio di dire usiamo questa opportunità per migliorare ancora di più. Sì, è vero, anche per me è stato così perché alla fine se non hai altre cose da fare hai anche meno distrazioni, che è brutto dirlo, perché è brutto chiamare la vita sociale distrazioni, cioè non è giusto, però in un certo senso lo sono. Certo. Però chiedevo anche perché tu hai, a Brescia siete stati nell'epicentro di questa situazione, quindi... Sì, 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 sì. No, allora diciamo che parlando di quello, sì, c'è stato un momento dove diciamo che eri un po' preoccupato più che altro per i tuoi familiari, come sai poi io anche ho proprio un membro della mia famiglia anziano che fa parte anche di un ammatico, che è la mia nonna, e mi sono preoccupato tra febbraio, marzo, aprile, quando era proprio tutto, sembrava la fine del mondo, perché come ho detto in alcuni video, lei ha perso il fratello, la sorella, la cognata in tre mesi, erano persone che avevano 80 anni, 86 anni, 93 anni, e la nonna ne aveva 87, quindi... Ma tutti di Covid. Allora, qual è il problema, cosa è successo a Brescia? C'era talmente tanto caos quel mese, che quando erano decedute persone tipo anziane, in recovery, così, nemmeno facevano i test, perché era tutto complicato, dovevi entrare una persona per prendere addirittura il corpo, diciamo, questo ha creato un po' di tensione, perché molti hanno perso familiari, comunque stretti, parenti stretti, anziani, e quella che mi preoccupava, e ancora adesso mi preoccupa, perché comunque non è che è finita la cosa. Ah, no, 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 no. Quindi lei, devi vedere la nonna, lei è molto divertente anche in queste situazioni, lei diceva, no, devo starti lontano perché non voglio farti ammalare, non voglio, sei giovane, no? Però lei in realtà sta pensando. Lei si preoccupava per te. Per me, per me, ma adesso abbiamo capito tutti che in realtà lei faceva così, ma aveva paura per sé. Ah, ok. Cercava di tenere tutti lontani, giustamente, e anche adesso non esce di casa, cioè, va proprio per le cose necessarie, e quindi è super attenta, però ecco, essere stato a Brescia ha creato un po' più di, magari, preoccupazione per quello, semplicemente quello. Poi, poi, hai visto anche tu lì a Torino, penso sia stato simile poi dopo, dopo la prima fase, è stato un po' uguale per tutti qui al nord. La riapertura, dici, poi, o parli del lockdown più... Eh, il lockdown comunque quando... Sì, penso sia stato simile come situazione. Poi, io nel mio caso l'ho vissuto un po'... Non ho vissuto alcuni aspetti, perché io, vivendo un po' in una zona di... Non voglio dire di campagna, però vicino alla campagna. Cioè, non immaginarti proprio io che sono circondato dai campi, però sono vicini, sono in una zona poco abitata, e quindi è stato... cioè, già di solito era abbastanza calma come zona. Certo. E poi abbiamo, a casa mia, con i miei genitori, abbiamo iniziato a comprare... fare la spesa online, quindi non ho neanche vissuto le code al supermercato, tutto quell'aspetto lì che... Ok. E non ho neanche vissuto la cosa degli applausi, delle cose che magari fanno... Hanno fatto nelle zone più... sì, centrali, quindi... Certo. L'ho vista solo in video, quelle cose. E coi genitori? Tutti a posto, eravate a casa o lavoravano normalmente? Allora, mia madre è in pensione, quindi per lei non è cambiato molto. Mio padre ha... Mio padre ancora adesso, tra l'altro, lavora da casa, perché lavora per una... per un'azienda di informatica, diciamo. quindi è più facile per loro passare allo smart working, al telelavoro. Perfetto. No, è stato anche bello perché non eravamo forse mai stati così tanto tempo insieme, cioè da un sacco di tempo. Ma lavoravate uno in parte all'altro, ognuno nel suo ufficetto? Io in camera mia, mio padre in un'altra stanza, mia madre stava in un'altra stanza ancora, quindi... quindi eravamo separati. Però sì, era bello. Poi per fortuna io avevo un giardino, quindi potevo... Questo era un grande vantaggio, sì. Fantastico, no? Daniel dice che ti piace l'afro di Alberto, da Miami. Allora, ragazzi, prima di iniziare ho proprio detto a Davide, guarda, non riesco più a sostenere la situazione, avevo un cappello per nascondermi, mi ho detto perché nascondere la verità? Alla fine le live sono per essere veri, questa è la realtà, non posso più nascondermi. Ma sì, non devi avere vergogna della realtà, bisogna accettare le cose. Esatto. Ok. Senti, quindi adesso ti sei trasferito? Come va? Allora, sì, intanto prima Davide ci tengo a ringraziare tutti coloro che stanno scrivendo cose positive. Sì, ah, scusate, se ci sono domande, io qua per sfortuna non vedo tutte le domande, non è molto aggiornato, quindi vedo che non arrivano tutte le domande, devo andare su YouTube. Se vedi qualche domanda, Alberto, fermami. Assolutamente. No, per ora vedo, ho visto vari commenti positivi che ci ringraziano, quindi ringrazio tutti i ragazzi, ci fa molto piacere. intanto che tu vai su YouTube rispondo un attimo alla tua domanda. Allora, io adesso sono praticamente a un'ora da dove è la casa, dove sono nato e dove è la nonna, perché il mio piano era trasferirmi dopo il matrimonio in un posto, diciamo, fuori dall'Italia, ma non per sempre, per un'esperienza, eccetera, tipo provare un po' altri paesi europei, prima di decidere dove appunto stare a lungo termine, medio e lungo termine. Solo che il coronavirus ha interrotto tutto questo, perché si è un po' incasinata la burocrazia mondiale e anche italiana specialmente. Quindi cosa succede? Dopo il matrimonio, quindi taglia, con un cittadino extra UE, devi ovviamente fare una procedura per avere permesso, tutte le cose, insomma, trasformare in permesso da marito o moglie, eccetera. e ci hanno dato appuntamento, indovina quando? Prova a indovinare Davide, l'ho preso a maggio l'appuntamento. Spara un mese. Dicembre. Dai, c'eri vicino dai, è quasi novembre, quindi... Ho esagerato. Esatto, quindi sei mesi, dopo è così in Italia. Io conosco già come funziona la nostra burocrazia. Esatto, quindi abbiamo detto, ok, questa è la situazione, Isa, non ha senso farla viaggiare fuori adesso, neanche col coronavirus, neanche da italiano, quindi abbiamo detto, stiamo sei mesi tranquilli, abbiamo trovato questo posto qua, vicino al lago di Garda, quindi siamo un'ora da casa mia, e c'era un'opportunità appunto, dato che molti turisti annullavano un po' tutte le situazioni che avevano preso, quindi abbiamo detto, stiamo qua, che tanto, noi lavorando in casa, come te, 24 ore al giorno, è importante avere comunque un ambiente con luce, anche tu, ho visto nel tuo video che hai detto, ti ha conquistato avere due finestre, perché chi non ha... è vero, esatto, esatto, è una cosa bella qui. Ecco, la cosa che forse è un po', nel mio caso, un po' opprimente, è che è un monolocale, e quindi è piccolo, e sono sempre qua, e questa è una cosa che un po' devo risolvere, devo risolvere, almeno tu hai qualche stanza, quindi puoi cambiare forse, no? Davide, ti capisco perché, scusa, quando avevo fatto le prime esperienze andando fuori casa, anch'io ho fatto l'errore di stare in monolocali, o comunque, un B che era mono, quindi, la soluzione che avevo trovato era tipo, andavo in posti tipo, ero in California, un periodo, ero a WeWork, dove fai smart working con altre persone fuori casa, o cercavo bar, insomma, capito, trovavo una fuga alla casa, ma ho detto, non ha senso, lavorando in casa, avere sempre questa, di soluzione, quindi abbiamo appunto deciso di piuttosto avere una stanzettina in più, il budget che metti in cose di WeWork, bar, eccetera, dici, lo metti nel posto dove sei. Quindi tu sei stato, tu hai vissuto in California, questo non lo sapevo. Sì, tipo quando, vari periodi, stato là due mesi, tre mesi, anche Romania, anche vari paesi, quindi, solo che non lo postavo tanto online, perché stavo facendo un lavoro di background, tipo, faccio un esempio, magari, sai che nel lavoro online abbiamo tante cose, da creazione di un prodotto, di un corso, che non hai bisogno di dimostrare cosa stai facendo. Quindi magari registravo una serie di video in un colpo con la nonna, in un mese, e poi me li portavo nel viaggio e magari li rilasciavo e nel frattempo magari non ero, non ero appunto qua, ma ero in altri paesi. E nessuno si accorgeva. Sì, lo dicevo nei podcast, quando facevo i podcast, appunto, solo a voce, senza essere connessi al video, lì ne parlavo, quindi magari per quello che molti non lo sanno, ne parlavo a voce nei podcast. Ok. Sì, sì, sì. Intanto, Tazim, credo, dice che la tua serie di video con i sottotitoli è una delle migliori risorse che ci sono. Penso in tenda quella originale. Sì, l'Italia è ciò con la nonna, esatto, esatto. Quanti video? 500? 300 in tipo 300 giorni, sì, di cui 250 proprio con sottotitoli italiano-inglese. Grazie mille, Tazim, lo apprezzo molto, ma ci tengo anche a dire che quello che fa Davide, che sto seguendo da anni, è veramente bellissimo. Davvero Davide, ci tengo a dirlo di nuovo, perché tu, nella tua semplicità, stai dando un contenuto che pochi danno, queste interviste a lungo range, diciamo, dove si parla proprio intensamente, profondamente di un argomento. E tanti miei studenti, così, ti ascoltano per questa ragione, perché sei, diciamo, non sei commerciale tutto il tempo di dire devo avere il titolo migliore al mondo, no, vai proprio su argomenti interessanti che durano un'ora, quindi complimenti per il format che fai da tanto tempo, da quando hai iniziato questo? Dici queste interviste qua, nello specifico, o questo? In generale, anche i tuoi video dove parli proprio anche da solo di cose interessanti, capito? Hai sempre fatto? Sì, ma da questi video più, forse quelli a cui fai riferimento, beh, sempre no, direi di no, però negli ultimi mesi ho iniziato a farli. diciamo che mi è successa un po' una cosa particolare che diciamo che ho iniziato a fare video che sono interessanti anche per gli italiani e YouTube li consiglia a tanti italiani. Quello succede. Sì, ed è imprevedibile. Esatto. E quindi adesso sono un po' in questa situazione in cui ci sono tanti italiani che mi seguono, però non è il pubblico di riferimento. Ti capita mai che ti scrivono anche robe del tipo che fai, cosa stai dicendo, che arrivano italiani e non capiscono cosa fai o no? Ah, sì, 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 Cioè, sempre quando questi video, tipo ho fatto un video diciamo sull'accento più neutro in italiano in cui parlavo dell'addizione, dei doppiatori, questa cosa qua. E questo video per i miei standard è esploso perché ha avuto 230.000 visualizzazioni che sono molte di più rispetto alla mia media. e quindi è arrivato un sacco di gente, tanti italiani, tanti, alcuni anche che mi dicono ma che cazzo dici? Guarda Davide, ti dico una cosa, io e Isa, perché anche Isa mi aiuta comunque a tenere sotto controllo un po' tutte le cose, se mi perdo qualcosa che devo appunto vedere, e siamo sempre sorpresi come la maggioranza delle critiche e negatività arriva dagli italiani che per sbaglio arrivano tanti di quegli insulti che io dico no, non è possibile, che popolo che siamo? Sì, è vero, è vero, è vero, infatti sono proprio gli italiani che mi rovinano la giornata a volte, non tutti, ok, non tutti, perché ci sono italiani che mi lasciano commenti molto molto belli, non voglio fare di tutta l'erba un fascio come diciamo noi, non voglio generalizzare, però i commenti negativi fastidiosi sono degli italiani quasi tutti. Sì, 99%, è incredibile ma è vero, è vero, perché gli studenti tipo che imparano italiano, basta vedere adesso la chat, è una sfilza di commenti bellissimi che sono sempre stupito, cioè chi impara l'italiano con noi è veramente molto gentile, cioè 99.9% sono persone gentilissime e disponibili che apprezzano quello che facciamo, ci ringraziano, cioè veramente è fantastico. Sai cos'è? Sì, da un lato gli stranieri che usano i nostri materiali comunque sono persone che apprezzano il fatto che facciamo del lavoro che è utile per loro. Gli italiani invece che trovano i loro video sul feed di YouTube secondo me la vedono un po' come un'invasione, un'intrusione e dicono ma chi è sto qua che mi vuole insegnare la visione, che mi vuole insegnare sta cosa, ma chi ti conosce, ma chi sei? Secondo me è questo. Esatto, esatto. Però non è che sono io che qualcuno mi diceva ma sicuramente ha pagato, ha pagato per per apparire davanti agli italiani. aiuto. Sì, qualcuno mi diceva però YouTube è l'algoritmo che decide quindi non dipende da me. Allora, vediamo qua se c'è qualche commento io ne vedo qualcuno solamente però ok, sì, c'è Valentis che dice sono Chris stiamo seguendo sto seguendo forse stiamo magari un amico non lo so forse forse perché è una persona che impara cioè perché perché tu insegni sia l'italiano sia come svilupparti ecco questa è una cosa interessante questo argomento tu è da anni che che sono pazzo che sei pazzo ma come è dato questo interesse dello sviluppo personale o bellissima domanda perché quello che pochi diciamo riescono a credere vedendomi adesso è che io sono sempre stato fino ai 15-16 anni tipo proprio avevo un'insicurezza dentro timidezza proprio a livelli altissimi sei quel tipo di persona che prima di chiedere il caffè al bar pensa come chiedo il caffè aspetta mi sta guardando qualcuno ti capisco ti capisco molto bene ti capisco ero uguale quel livello quel livello di insicurezza di timidezza e non solo in quello ma tipo un po' in tutte le aree della vita con con le ragazze nello sport facevo schifo a scuola e insomma facevo un po' ero un super sensibile timido e quindi ho detto cavolo non può essere che che ho così tanti limiti nella mia vita non sto facendo cose perché mi sento comunque una molto ansioso tipo e ho detto vai ci sarà una soluzione ho cercato online qualcosa e non so come mi è apparso mi è apparso intanto sta arrivando la cagnolina aspetta che ti faccia salutare la cagnolina Bettina ecco solo un saluto da Bettina che si è svegliata saluta a tutti beh dai mi bacio 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 ciao una dichiarazione una dichiarazione una dichiarazione d'amore e niente quindi praticamente ho trovato questo libro online che mi è apparso di Roberto Re non so se lo conosci ma è uno che fa libri in italiano su miglioramento come essere umano no e mi è apparso questo libro leader di te stesso io sono sempre stato curioso ho detto vediamo ho detto mia mamma vai a ordinarlo in libreria lì all'edicola e me lo prendi poi ne avevo 15-16 anni appena compiuti prendo questo libro e comincio a scoprire cose tipo concetti come la zona di comfort e cose che ho detto cavolo a 16 anni non ce l'ho mai pensato questa cosa che io ho paura di fare una cosa perché è una cosa che non ho mai fatto semplicemente sapere questo mi ha fatto capire ah ecco perché ho paura di fare un video su youtube è normale tutti avrebbero paura la prima volta che l'ho fatto e da lì a volte sai avere un nome per qualcosa ti aiuta a combattere quella cosa se tu non hai un nome per la zona di comfort non capisci bene e quindi dare un nome ti aiuta a identificare il tuo nemico secondo me sì e questo sapere cosa sta succedendo nella tua testa ti aiuta a dire quando succede ah è quello allora è per quello che ho paura in questo momento non è paura in realtà è una cosa che non ho mai fatto falla lo stesso no e alla fine di quel libro c'era una lista di 40 autori che variano da Zig Ziglar Jim Rohn Tony Robbins Maxwell Maltz tipo altri 100 Napoleon Hill ho detto basta adesso mi prendo tutti questi libri e ne ho ordinati tipo 20 e via da lì non ho più smesso perché ho visto quanto era utile non solo per aiutare me stesso ma che se aiutavo me stesso a superare certe cose potevo poi applicarli in qualsiasi area sport apprendimento di lingue e anche poi chi imparando la lingua aveva bisogno di qualche consiglio lo potevo aiutare meglio perché potevo sapere cercando con empatia di capire lui cosa stava succedendo diciamo nella sua vita e nella sua situazione aiutarlo a sbloccarsi o a avere una soluzione o a consigliargli un libro quindi da lì da lì non ti fermi più perché vedi quanto è bello capire cosa ti succede in testa e in generale un po' di tutto poi sai anche tu so che sei una persona che legge molto e molto curiosa quindi poi mai quanto vorrei esatto diciamo sono il campione della lamentela tipo ah sì vorrei leggere di più diciamo che dipende molto dai periodi a volte leggo di più poi smetto per tre mesi non leggo nulla ma perché ti manca tipo il tempo o perché come me anche io alcuni periodi hai altri problemi quindi passa in secondo piano allora secondo me è che il primo nemico secondo me sono le distrazioni i vari beh youtube stesso instagram e tutte queste cose nemico numero uno che individuo seconda cosa forse il fatto che non ho proprio un'abitudine cioè in alcuni periodi ce l'ho avuta tipo la mattina leggevo un po' però non lo so poi ho perso l'abitudine di leggere magari in un determinato momento e quindi lo fai in automatico non lo so forse direi queste due cose e Davide non so se conosci il libro digital minimalism lo conosci di di Cal Newport si l'ho letto mi è piaciuto molto ecco questo concetto sto vedendo specialmente ultimamente che alla fine è quello veramente come stai dicendo tutte queste noi lavorando online è molto facile non staccarci mai da instagram youtube email facebook perché lì abbiamo modo di connetterci con i nostri studenti abbiamo inoltre per me è una necessità anche gli studenti che sono in un corso se hanno problemi con qualcosa ovviamente devo essere lì pronto a vedere e questo però ti può portare a un incessante controllare queste cose per questo che è importante appunto perché poi perché poi una volta che sei su instagram instagram ti tiene dentro con le storie con questo sei caduto nella rete dalla rete non esci più probabilmente perché hanno ingegneri che pagano milioni per capire le nostre debolezze esatto esatto bob dice alberto sta parlando più veloce che mai questo ragazzi ecco se vuoi chiedere davide alla tua audience se parliamo troppo veloce io rallento però so che le tue quattro chiacchiere sono proprio lo stile naturale quindi sto cercando di parlare come parlerei però sono sempre disponibile io di rallentare senza problemi ma sì effettivamente finora con le altre persone ho parlato proprio come se fossi con loro magari ogni tanto spiego qualcosa ma come vedi non ho spiegato niente in 27 minuti quindi sì non lo vedo proprio come una cosa didattica ma come quattro chiacchiere però spero che siano interessanti Bob they mentioned my name I love it guys grande Bob e l'abbiamo menzionato di nuovo Bob ok vediamo se c'è qualche altra domanda se no avevo io una domanda per rimanere in questo Ale saluto un amico Enrique che è in chat che ci è venuto a trovare è un ragazzo brasiliano che lavora con l'Italia e parla bellissimo l'italiano quindi lo saluto lui è la sua ragazza che sono venuti a trovare qua quindi un abbraccione Enrique ci tenevo a mandarglielo e volevo vedere se c'era qualche altro commento ragazzi se avete domande cose così potete sempre lasciarle assolutamente però in realtà io volevo ancora fare una domanda che avevo su questo argomento secondo te cioè allora ti spiego il mio problema a volte quando guardo le persone che parlano di produttività di queste cose è che alla fine finisco per provare invidia ok cioè che dico ah guarda come sono bravi come organizzano bene la giornata come hanno tutto organizzato tutta la perfezione come non so tu hai mai provato questa cosa no avere un'influenza più quasi negativa e invece cercare di avere una mentalità più di apprendimento no non so se penso magari anche a una persona che in un periodo magari di difficoltà e trova difficile applicare tutte queste cose come fa non so se è chiara la domanda bella bella domanda sì forse ho capito cosa cosa ti succede e a me succede in un modo un po' diverso praticamente vari periodi della mia vita dato che non ho mai smesso questo percorso di libri video online audio podcast per appunto migliorare nel lavoro nella mia vita spirituale familiare amicizie in generale linguistica ci sono dei momenti in cui e lo dico spesso a Isa in cui non è che provo invidia io ma provo cioè mi viene addosso un'ansia una rabbia perché so che in quel momento so cosa devo fare ma non sto riuscendo a farla perché qualche problema esterno della mia vita mi sta causando di non essere produttivo in quel momento specifico faccio un esempio in quest'ultimo mese traslocare sai che non è facile lo stai facendo anche tu e io non è che trasloco per lungo termine ma era un medio breve e però comunque uguale per io portare qua le cose lavoro eccetera ho dovuto ricercare appartamento trattare di qua e di là e luce insomma tutte le cose della vita il cagnolino abbiamo anche che sta sempre con noi non abbiamo un posto dove lasciarlo perché comunque è abituato a stare con Isa e quindi in quei momenti c'è una una rabbia quasi come stesso di dire cavolo voglio godermi il momento ma vorrei anche essere produttivo quindi per me è più una una rabbia con me stesso perché so il potenziale che ho come Alberto come essere umano e so che se non faccio certe cose praticamente sai anche tu che i risultati a lungo termine sono dati da ciò che si fa ogni giorno quindi sappiamo benissimo che se non fai le cose ogni giorno poi non arrivi dove vuoi essere quindi magari quello che succede a te è una cosa simile di dire cavolo lo guardo lui ha già tutto a posto io non sono a posto non sto riuscendo quindi forse è più questo sentimento del so cosa devo fare e non lo sto facendo quindi io lo prendo in questo modo quindi cosa faccio dico ok per questo mese è così non riesco perché è un casino la mia vita questo mese e per tutti succedono cose di salute di vita di lavoro di famiglia di amici qualsiasi cosa che ti può mandare fuori strada un attimo poi però dico ok so le strutture che devo avere per essere produttivo quindi anzi mi rimetto ad ascoltarli così mi metto l'obiettivo di dire ok da lunedì prossimo pam riparto e uno step un passo alla volta cerchi diciamo di risistemarti ritornare incarreggiata incarreggiata senza dire senza arrabbiarti troppo con te stesso questa è una cosa che sto imparando a fare perché diciamo l'ambizione e la motivazione hanno due lati quello buono ma anche quello cattivo che poi sei ti crea molta ansia con te stesso o stress perché dici ah volevo fare tipo tu magari volevi fare tre podcast registrare quella settimana infatti questa settimana è così perché ieri volevo fare un video andando a Torino poi mi sono accorto che non stava venendo interessante non c'era molto di cui parlare volevo parlare un po' della situazione com'è a Torino dato che neanch'io non andavo da tipo tre mesi grazie però mi sono accorto che non c'era nulla da dire e alla fine ho detto vabbè lasciamo stare e questa cosa mi ha molto come dire mi ha un po' buttato giù perché ho detto ho sprecato una mattinata però è giusto questo sai Davide è un segno positivo io l'ho sempre visto come un segno positivo perché vuol dire che hai degli standard per te stesso lavorativamente e anche come tuo carattere di dire cavolo mi sono detto di fare una cosa e dovrei farla perché se no immagina uno che dice faccio una cosa e non la fa faccio una cosa e non la fa faccio una cosa e tu stai dando una lezione al tuo cervello di dire di non fidarsi di te cioè lo abitui a dire una cosa e poi non farla e quindi è buono quando tu hai questa sensazione di dire devo fare una cosa e non l'ho fatta e non mi sento bene con me stesso perché hai uno standard di fare le cose quello sì però l'altro lato della cosa è lo stress secondo me questa cosa ti porta allo stress secondo me e magari ancora io a volte non riesco magari a dire ok questa settimana non riesco a pubblicare cioè mi viene difficile accettare la cosa e magari dico ok lo faccio in fretta cerco di fare una cosa veloce quando chiaramente non ho tempo di fare una cosa decente però come se ho questa voce che mi dice no però prova a farlo lo stesso dai ce la puoi fare però non so come dire non riesco ad accettare che a volte non sei riuscito e va bene non succede niente poi chi se ne frega no non so se Davide sarei sarei un ipocrita a dirti che io ho risolto quel problema perché è esattamente la situazione in cui mi trovo spesso anch'io e come ti ho detto l'unica cosa che ho aggiunto è dire appunto quello che hai detto non è la fine del mondo se succede ma voglio tenere comunque quel lato di ho detto che faccio una cosa e la faccio perché sono più i lati buoni che quelli cattivi e nella vita ti dico la verità ero spesso pensavo ah non è cioè come faccio a togliere questo stress eccetera e a volte c'è uno stress positivo e uno stress negativo lo stress negativo è quando ti preoccupi troppo per cose che non controlli se tu ti preoccupi ti stai facendo problemi che dici cavolo questa cosa tipo ti faccio un esempio domani mi chiude youtube mi chiude il canale cioè tu puoi fare certe cose per non farti chiudere il canale ma se youtube chiude il canale perché decide lui che ti chiude il canale non è un problema che tu puoi controllare no? questo è lo stress negativo poi c'è lo stress questo causato dal non aver fatto cose che ti sei promesso di dover fare questo ci sta cioè ci sta quindi adesso magari sto più attento a scegliere cosa mi prometto di fare se so che una settimana per esempio questo mese sapevo che era un casino perché ci spostavamo in anticipo ho detto mi metto meno cosa di quello che farei di solito per assicurarmi di riuscire a fare la maggioranza delle cose scritte così che appunto ok se succede di non fare quella cosina così c'è uno stress poco ma quello buono comunque e e ci sta perché non lo so in questo momento della mia vita dico che secondo me è una cosa che fa bene quella se diventa poi poi sei tu stesso a dover capire se questa è una cosa che proprio ti fa stare male allora lì sì allora non va bene e lì forse troppo ma quello stare male un po' perché ti sei un po' deluso è come magari quando un atleta che ha un obiettivo manca l'allenamento è ovvio che non ti senti benissimo con te stesso penso sia normale è vero è vero sì un po' simile allo sport quando dici cazzo non mi sono allenato sono un pigrone esatto esatto scusa Davide chiedo a Isa un secondo di aumentare l'aria condizionata che fa un caldo bravo abbassare un po' l'aria grazie tu che ce l'hai perché la mia è rotta quindi voglio di caldo devo sopravvivere con questo cosa no in realtà posso anche potrei comprare anche un ventilatore più decente però questa roba qua ridicola esatto esatto ce l'avevo anch'io quella quando ero a casa mia senza aria meglio di niente meglio di niente Davide non so se vedi le domande magari sì allora qualcosa sì ecco questa non so se ne hai vista una io ne ho vista una molto interessante vai vai sei tu il capo questa mi è piaciuta molto è stato difficile non seguire il percorso normale di molte persone che vanno all'università e volevo anche io chiederti questo perché tu non hai fatto l'università come diciamo parlaci un po' di questo è uno dei miei argomenti preferiti intanto saluto Ruth che tante volte lascia tanti commenti belli e sempre positivi quindi ti ringrazio tanto e sembra una una ragazza molto anche lei già nella strada giusta quindi complimenti veramente detto ciò riguardo a questo argomento allora tutta la mia famiglia voleva che io andassi all'università i miei genitori i miei insegnanti vari amici c'era solo una zia che credeva nella mia idea perché tutta la mia idea si basava sul fatto che dopo dieci anni di scuola tradizionale non avevo imparato le lingue perché praticamente quello che mi avevano fatto fare non aveva funzionato per me e quindi ho detto pensavo cosa serve ritornare ancora nel sistema tradizionale ho fatto tutto quello che volevano e comunque ero uscito da col cento anche dalle superiori quindi mi ero dimostrato che il mio cervello se vuole può memorizzare informazioni e ripeterle perché quello alla fine erano i test a scuola di lingua era 50 vocaboli da memorizzare e vai o esercizio sul past perfect e vai memorizzi i tempi e cose li inserisci e quello è il voto però dopo dieci anni non parlavo l'inglese non lo capivo bene ho detto non ha senso quindi ho detto io vado per la mia strada e allo stesso tempo giusto per farli contenti entro all'università solo per confermare anche a me stesso che non è quello quello che mi serve a me per quello che io voglio fare perché poi dipende anche il tuo obiettivo non sto non cerco di dire che l'università non ha un ruolo eccetera so benissimo che tu l'hai fatta e di sicuro nel tuo percorso hai trovato il senso per cui aveva senso fare l'università non sempre ti posso dire la verità a volte mi sono trovato a pensare ma perché ecco però però diciamo ecco comunque il concetto il concetto è che nel mio nel mio modo di vedere le cose in quel momento non trovavo abbastanza ragioni per dirmi questo ha senso però ho detto entro mi sono iscritto all'università cattolica di lingua di russo e tedesco business se non sbaglio se non ricordo male è qualcosa proprio facile e entro il primo giorno ho detto guardo vediamo e allo stesso tempo creavo lato continuavo a creare italiano automatico quindi quello era già partito e ho detto faccio un test entro e subito la professoressa di russo ci dice se voi non fate quello che io vi dico non passerete gli esami ha cominciato a scrivere sulla lavagna tutte le lettere in russo in cirillico eccetera e ha fatto tutto ciò per cui io odiavo imparare lingua a scuola quindi ho detto ok calma diamo altre due chance ho provato un'altra lezione tedesco comincio a scrivere sulla lavagna vocaboli geld automat che è tipo la macchinetta al bancomat e altri 30 vocaboli ho detto aiaiaiaia no dimmi che non è di nuovo così e vado un'altra lezione e niente il professore ci mette a leggere sul libro tutti che dormono ho detto no ok che non voglio generalizzare questa è la mia esperienza no ma è così così comunque per tante cose anche la mia esperienza è questo cioè posso confermarti che ci sono enormi problemi nell'insegnamento universitario delle lingue soprattutto poi bisogna anche vedere le lingue sono una cosa altre facoltà sono altre cose bravo bravo ci sono varie facoltà tipo la ca foscari che so che stanno avanzando in un modo più diciamo direzionato uno stile che mi piace da quello che so che ho sentito comunque non posso esprimere opinioni su ciò che non ho provato sto semplicemente dicendo su ciò che ho visto quindi ho detto dopo due lezioni nella mia testa ho detto basta adesso io ho deciso lascio l'università vado in italiano automatico ma ma tu come università avevi solo pensato a lingue non pensavi a altre facoltà altre cose avevo pensato cose come dottore nutrizione però dalle letture che facevo da 16 anni sapevo anche che se vuoi fare una cosa bene nella vita devi concentrarti quindi ho riconosciuto capito quindi ho riconosciuto che non potevo diventare un dottore che ho sbagliato comunque perché stavo mi stavo allenando quindi volevo diventare atleta poliglotta 30 lingue avere un business online sposarmi avere amici ho capito presto non presto ma negli anni che non puoi fare tutto devi scegliere quindi ho detto ok per ora l'obiettivo è l'italiano automatico e le lingue e il fitness e creare appunto online da zero questa cosa quindi ho fatto un periodo di sei mesi dove ho aspettato a dire alla mia famiglia che veniva la mia strada perché dovevo prendere il coraggio perché tutti mi dicevano di no ho detto in questi sei mesi vado al massimo su italiano automatico se guardo i video che facevo mi fanno ridere erano una roba orribile ero un ragazzino col naso grande senza capelli non so che cosa quindi i capelli sono un miglioramento i capelli sono un miglioramento rispetto a quello che quindi quindi adesso devono diventare ancora più grandi adesso deve proprio diventare occupare tutto lo schermo caparezza esatto caparezza e che ragazzi chi non lo sa caparezza è un cantante italiano con i capelli così e quindi vi consiglio di ascoltare tra l'altro lo consiglio sempre perché anche io imparo l'italiano quando guardo quando sento le sue funzioni lo scrivo qua nella chat magari esatto esattamente e quindi Davide finendo per chiudere il capitolo ho dato tutto per scrivere un piccolo audiolibro in italiano con traduzione ero da solo ovviamente ho detto devo avere qualcosa per provare i miei genitori che questo non è quello che stanno dicendo che nessuno mi crederà mai che non posso fare niente cos'è il computer perché era 2012 2013 non è 2020 già adesso è più si crede di più cavolo tutti lavorano online lì in Italia ancora mi dicevano proprio la classica frase ma poi da chi lavorerai chi ti prenderà a lavorare chi se non hai un foglio di carta che dimostra chi chi ti ascolterà e io però ero lì che pensavo no mi ascolteranno perché dimostrerò con i miei risultati che fuori dalla scuola ho imparato meglio le lingue che a scuola e ho detto è quello che dovrebbe portare a credermi però a 17 anni a 18 mi ricordo era molto difficile ero lì ogni giorno con i dubbi nella mia testa perché le persone di riferimento nella tua vita sono i tuoi genitori familiari amici insegnanti e tutti ti dicono che stai sbagliando quindi ho detto devo provarmi che funziona ho fatto un piccolo audiolibro che era la prima versione di un audiolibro che ho raccontando la mia storia registrando l'audio ed era a 18 euro lì nel 2014 ho detto vai diciamo alle persone che mi seguono da un anno e mezzo che adesso diciamo c'è questa cosa disponibile e in quella settimana 100 studenti hanno preso questo audiolibro e io ero lì ogni studente tipo non ci credevo perché dicevo cavolo allora era prima dimostrazione che c'è una possibilità di avere un percorso al di fuori dal mondo conosciuto fino ad ora di quello che mi stanno dicendo e quindi ho detto questo alla mia famiglia e da lì ho guadagnato tempo diciamo un po' di credibilità ai loro occhi di fiducia da parte loro perché non solo era successo questo ma anche le persone che lo stavano usando erano comunque contente del materiale insomma questo mi ha dato ed è stato così poi ho lasciato ufficialmente l'università ho continuato un passo alla volta e sto continuando come stai facendo tu penso è un po' il percorso simile sì nel mio caso forse facendo l'università non ho fatto questo progetto a tempo pieno e per un po' di tempo era quasi un hobby più che una cosa seria tu forse avevi quasi fin da subito l'idea proprio questo è quello che voglio fare ed eri super motivato no? non subito subito ma dopo quando ho deciso di lasciare l'università sì quindi dopo due annetti tre annetti dal primo video proprio di della passione di lingue perché ho iniziato a 16 anni con le lingue 15-16 anni quella decisione è stata 18 quindi perché come penso te hai iniziato non pensando che questo diventa il tuo lavoro io ho iniziato perché amavo le lingue quindi è stato quello che mi ha fatto fare il primo video infatti ho fatto il primo video parlando in francese per farti capire in un altro canale ancora e 100 video così quindi è arrivato per caso l'idea è arrivata per caso l'idea di italiano automatico a dirti la verità non è stata una cosa ah farò quello no nel mio caso io c'erano già dei materiali di questo tipo per le lingue straniere che imparavo e ho pensato ma perché non fare una cosa così in italiano e poi ho scoperto che in realtà c'eri già tu e c'erano già altre quindi non ero il primo non era un'idea molto originale però comunque ci ho provato però per un po' di tempo in realtà non l'ho fatto così seriamente perché era più un hobby come dicevo diciamo che nel mio caso poi sono i risultati che mi hanno più motivato cioè quando vedo che alcune cose piacciono e ci sono sempre più persone che ascoltano allora dico davide ci tengo a ringraziarti per una cosa dato che l'opportunità qua perché tu hai scritto un articolo non so quanto tempo fa ma tanto tempo fa dove tra le risorse consigliavi penso il mio podcast o italiano automatico e questo articolo lo hanno trovato veramente tante persone che nel tempo mi hanno detto guardate ho trovato questa risorsa consigliata Davide di podcast italiano eccetera quindi oggi la prima vera occasione di ringraziarti davvero ah ok quell'arte quell'episodio del podcast credo che abbia vent'anni e sinceramente non sapevo che fosse abbia che avesse raggiunto tutte queste persone sì a google evidentemente è piaciuto e quindi ti ringrazio perché è molto gentile a parte tua ah figurati figurati e non so di cosa stavamo parlando però forse si è chiuso del mio fallimento universitario sì no però quindi diciamo che hai dimostrato poi anche ai tuoi parenti che funzionava la cosa si sono convinti di di questo hai avuto ecco magari questa è la domanda hai avuto dei momenti di sconforto delle difficoltà dei momenti di dubbio lungo il percorso sì tanti Davide perché soprattutto alcuni momenti dove mio papà è un imprenditore quindi l'ho sempre visto lavorare urlare di notte è nel campo del riciclaggio della plastica quindi la spazzatura diciamo non è proprio un cioè vai in azienda e senti puzza quindi è proprio uno di quei lavori di quei lavori proprio da imprenditore italiano iniziato nel garage di mia nonna quindi anche mia nonna lavorava con questo aveva iniziato insomma l'ho visto sempre lavorare e mio papà diciamo che come tutti non credeva in questa cosa che io stavo facendo mi diceva tutto il tempo vieni lavora con me lavora con me ma perché stai spiegando tutto il tempo con questo lavora con me e quindi ci sono stati vari momenti dove dici cavolo sono qui che mi sto ammazzando di lavoro e non c'erano risultati finanziari perché sai anche tu che specialmente i primi anni i primi tre anni praticamente addirittura dovevo mettere i miei risparmi dentro perché tra tutti i servizi che stavo aggiungendo online per avere una struttura buona per provvedere i corsi dare servizio via mail insomma tutta una serie di cose i podcast che più ascoltano più costano tutte queste cose e praticamente i primi tre anni non è che aveva un vero e proprio risultato che lui valorizzava perché erano grazie erano Alberto stai facendo un ottimo lavoro erano studenti che mi mandavano video che per me avevano un grande valore ma non necessariamente per lui essendo un imprenditore sapendo le difficoltà della vita quindi in questi primi anni specialmente hai momenti dove dici cioè avevo momenti dove piangevo perché anche era complicato in Italia a fare le cose partitaiva nemmeno i commercialisti sapevano dirmi cosa fare perché era tutto nuovo e mi ricordo vari momenti tipo uno in particolare che ero a cena e non sapevo più ero proprio stanco perché dovevo fare tutto e anche seguire burocrazia ero da solo e niente stavo piangendo perché nemmeno la mia famiglia stava apprezzando quello che facevo e mi è venuto da piangere e quindi sì ci sono stati tanti tanti momenti ce ne saranno tanti in futuro ma ho sempre pensato in quei momenti ho sempre salvato i ringraziamenti delle persone e che poi molte diventavano anche mie amiche ho detto cavolo questa persona mi ha scritto non so come ma un libro che ho detto ho consigliato qualcosa mi ha scritto mi è cambiato la vita magari era un commento così che poi non gli ho cambiato la vita ma per me era quel commento di dire cavolo questa persona comunque l'ho aiutata in un modo importante e allora ritornavo il giorno dopo di nuovo a rimettermi a fare le cose e quindi quando ci sono quei momenti leggo i ringraziamenti tipo qua negli commenti che sto vedendo qua potrei fare la foto a 20 già da aggiungere al mio alla mia cartella che mi tira su perché è quello è stato quello che mi ha fatto come questo sempre sebastian dice che sei un suo un esempio per lui grazie sebastian molto sebastian sebastian gentilissimo che cosa volevo chiederti ma tu non hai mai insegnato l'italiano come cioè lezioni private mai infatti bob il signore un ragazzo che ha scritto prima mi aveva mandato recentemente proprio una mail chiedendomi se insegno sui toki eccetera e ogni settimana ne riceviamo varie appunto anche se non lo dico mai perché vorrebbero questa opzione appunto di insegnare così so che non l'ho mai fatto perché dall'inizio non perché non trovo valore in questo sia chiaro c'è una fase so che anche che tu lucrezia e tanti anzi la parte principale la vostra attività principale proprio adesso adesso non è principale diciamo che metà metà dei guadagni vengono da lì però per me è stato fondamentale nel senso che cioè all'inizio all'inizio appunto dato che non arrivavano guadagni da altre parti perlomeno arrivavano studenti grazie al podcast che facevano lezione con me e quindi in qualche modo funzionava diciamo anche se non direttamente dai dal podcast quindi così però tu non hai non volevi proprio fin da subito non hai mai voluto no e ti spiego il perché il fatto qual era che io quando imparavo lingue mi piaceva starmene per conto mio e ascoltare la lingua in autobus o mentre mi allenavo eccetera quindi ho visto che arrivavo poi a parlare la lingua semplicemente magari facendo qualche cosa tipo shadowing o parlando un po' a me in doccia cioè robe così o occasionalmente parlando con un amico eccetera e quindi ho sempre pensato che di creare risorse che avrei usato anch'io quindi i miei corsi tendono a essere da diciamo studente autonomo che poi va a cercare appunto un po' più in là nell'apprendimento quando appunto vuole attivare il parlato e continuare lo complementa con magari conversazioni con ragazzi come te o persone che trova o amici per continuare l'attivazione o per semplicemente andare a usare l'italiano in Italia e non l'ho mai fatto proprio per questa ragione che io stesso non amavo troppo praticare di parlare le lingue quando le imparavo forse per quella mia natura anche ti dico la verità un po' introversa dello stare per conto mio di stare bene con me stesso ma semplicemente per questo quando parlavo con gli studenti lo facevo gratuitamente o tipo così per conoscerli meglio solitamente questo o Davide c'è anche questo in alcuni corsi che abbiamo fatto tipo con Pierluigi non so se lo conosci di voi apprendere italiano sì 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 ecco cioè non personalmente in realtà però conosci il canale sì 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 ecco con lui includevamo nel percorso del corso che offrivamo tipo una lezione al mese dal vivo cose così un po' più di gruppo così ma anche per ti dico la verità quel discorso non si può fare tutto purtroppo ok stavo vedendo se c'era qualche altra domanda commento allora la chat è diventata spagnola portoghese praticamente da qualche minuto mi sembra esatto c'è c'è Dimitri che ti chiede Davide ho una domanda per te cosa pensi del metodo dell'apprendimento di lingue di Stephen Krashen ma sono cioè sono sostenitore come anche anche te direi cioè penso che sia il modo giusto di imparare le lingue poi forse forse ecco facendo un po' di ricerca anche per alcune cose dell'università diciamo che le sue teorie sono a volte sono utili come idea poi forse non le ha molto provate sì esatto è vero l'ho notato anch'io infatti quando ho visto lui nelle sue lingue non era tipo un fenomeno in quello non dicevo tanto quello dicevo proprio a livello accademico cioè non è che non sono proprio dimostrate in maniera più come dire di studi e ricerche diciamo però secondo me è evidente che funziona e ci sono tanti esempi che conosciamo tutti quindi sì sono favorevole allora credo che svetlana si riferisca a me ma non non sono roberto però no ma Davide forse mi chiamano o roberto o albero o ah ok ci sono vari nomi che girano in giro ah ok 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 no però non parliamo russo perché sennò chi non capisce il russo se ne va fondamentalmente esatto o magari sei tu roberto non lo so potrebbe anche essere è che mi chiamano spesso roberto roberto è mio padre oppure roberto un italiano vero però io non so c'è questa che potrebbe essere interessante Berenice che saluto è una mia studentessa tra l'altro grandissima fa una domanda sulla fuga di cervelli quindi quindi sì ci tengo Davide a salutarla anch'io che è studente anche di me Pierluigi quindi è dappertutto Berenice ci sono ci sono tante persone che sono che seguono tutti che sono un po' sparpagliate quindi è molto comune vai Davide inizia pure la fuga di cervelli non so per noi ragazzi italiani mi sembra che sia comune sentire questa storia che non abbiamo opportunità che non c'è lavoro che fa tutto schifo che siamo destinati a una vita di precarietà lavorare senza avere un posto di lavoro fisso tutti questi problemi per cui poi tante persone se ne vanno dall'Italia sinceramente non so cosa dire non ho capito la domanda in realtà se pensiamo che voi siete in grado di trovare lavoro nella stessa area ma in maniera diversa senza uscire dall'Italia hai capito ma dipende tanto dalle condizioni cioè purtroppo per alcuni lavori in Italia pagano meno e le condizioni sono peggiori e questo è il motivo che porta tante persone a andare via dall'Italia chiaro facendo una cosa come la nostra non c'è alcun problema perché non dipende da nessuna azienda non dipende dalla situazione economica italiana esatto no quello è veramente speciale sì e no sono d'accordo allora con Davide che dipende dall'area che scegli di lavoro ti faccio un esempio conosco persone che hanno fatto un certo tipo di studi per diventare professore bam 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 in una scuola pubblica italiana e a causa della burocrazia italiana a 40 anni ha raggiunto il posto fisso quello non dipende troppo da lei è il sistema italiano di concorsi di cose che l'agglomerazione di troppe troppi insegnanti ci sono tanti problemi strutturali eh capito problemi strutturali sì che non risolviamo da anni e che ci promettiamo di risolvere però la politica non lo fa non lo fa mai quindi però Davide e magari parlando appunto del no come hai detto della nostra situazione Berenice io Berenice sto valutando proprio parlando anche con Isa proprio valutando il covid ha rallentato questo processo perché appunto quest'anno ci eravamo detti visitiamo vari paesi tipo Brasile Portogallo e altri tipo che ci interessavano per poi decidere appunto dove puntare per il nostro futuro guardando anche che tipo di burocrazia fiscalità e tutto da quel paese perché per il lavoro che facciamo io e Davide è molto importante avere un paese che supporta il nostro tipo di lavoro purtroppo e lo dico molto tristemente l'Italia è molto molto indietro con la fiscalità legata alle cose nuove tecnologiche e di innovare in questo di dare più opportunità ai giovani cose stimolanti ci sono cose che stanno tentando di fare ma che spesso non vanno bene comunque per quello che io in particolare devo fare perché insomma è un lungo discorso ogni paese sta creando nuovi regimi nuove cose per attirare giovani dare possibilità non sto vedendo ancora in Italia quello che mi piacerebbe vedere ma non voglio escluderla ancora dalle opzioni questa è la situazione sì 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 diciamo che nel tuo caso non si tratta di una fuga di cervelli perché non è che come dire non è che vai a lavorare per un'azienda di un altro paese tu lavori sempre per te stesso oppure non è che vai a fare ricerca per un'università è vero mettiamo in fuga il nostro cervello da soli esatto sei in fuga fisica non in ok 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 se vedi qualche commento guardo io vedo una parte dei commenti quindi allora guardo anch'io che qua vedo tutto allora guardiamo qualche domanda interessante allora ilia chiede cinque mesi usavo che uso il metodo di steven krashen ma non posso parlare ho paura di parlare può essere che avete un consiglio per riuscire a fare questo allora se mi dai il via libera Davide vai pure vai pure vai pure vai pure è praticamente quando hai una situazione di questo tipo che è la più comune di quelli che mi scrivono ho vari consigli allora il primo è per eliminare la tua paura di parlare due libri uno è di Dale Carnegie che si chiama come vivere come cominciare a vivere e smettere di preoccuparti o eliminare lo stress qualcosa di questo tipo da alcuni consigli utili e l'altro è di praticamente Susan Jeffers si chiama senti la paura ma fallo lo stesso in inglese feel the fear and do it anyway che anche questo ti aiuta in questo poi a livello linguistico le attività che secondo me poi Davide darà il suo consiglio puoi fare se stai ascoltando da un po' ma non vedi il progresso numero uno ti dico che è normale dico sempre di non aver fretta di parlare perché ogni bambino al mondo che entra in questa terra non parla dopo un mese non parla bene dopo due mesi non parla dopo tre mesi e ok non siamo col cervello di un bambino si può parlare due ore di questo discorso Davide lo sa però il discorso è il concetto di dare priorità all'ascolto dare materiale al tuo cervello è la ragione per cui io e Davide appunto facciamo quello che facciamo di creare i materiali da ascoltare poi adesso al quinto mese ok puoi dire aggiungo delle attività tipo lo shadowing magari che è avere un audio col testo e leggere insieme all'audio oppure cominciare a cercare di attivare il tuo parlato da solo senza stress creandoti delle frasi cercando di parlare della tua giornata e una volta che fai queste cose quando ti senti pronto cercare una persona come Davide qualcuno che ti faccia parlare in un ambiente senza ansia senza stress e pian piano attivare questo parlato però e ultima cosa importantissima che molti non fanno nel modo giusto è ascoltare tanto la stessa cosa il mio francese aveva fatto un progresso fantastico quando ho capito che non dovevo continuare a cambiare gli audio sempre ma anche prendere un audio che mi piaceva ascoltarlo 10 20 30 volte lo stesso perché quello dal tuo cervello proprio come si dice in italiano fa similare assorbire le parole le espressioni di quell'audio in modo molto profondo immagina sentire questo podcast 20 volte cioè dopo 20 volte comincerai a dire le frasi che io e Davide stiamo dicendo perché la ripetizione aiuta tantissimo in questo specialmente nelle lingue queste sono un po' dei consigli potrei darne altri ma voglio che Davide dai suoi sì ma io come dico sempre comprendere e parlare sono due mondi diversi quindi bisogna capire questa cosa immagino che anche a te sarà capitato che arrivi un punto in cui capisci benissimo e continui ad ascoltare perché è facile aprendi lo smartphone ti metti vai sull'autobus facilissimo a portata di mano il telefono sempre in qualsiasi momento però per parlare ci vuole un po' più di organizzazione anche più di coraggio l'intenzione può fare anche paura all'inizio e però bisogna farlo per forza cioè non si può pensare che ascoltando per sempre si parlerà bene un po' ti aiuta è un prerequisito secondo me capire bene è un prerequisito per parlare bene ma non è una condizione sufficiente per parlare bene quindi quindi sì bisogna solo scendere dividere le due cose secondo me e iniziare a parlare il più possibile ok c'era allora una domanda che non è arrivata qui ma me l'avevano fatta prima fuori dalla dalla diretta tornando un po' al discorso adesso so che stiamo siamo già forse in ritardo ok tranquillo Davide che 23 minuti ancora van benissimo ok 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 perfetto che mi sembrava interessante quindi tornando sulle tue routine Catherine mi chiedeva di chiederti di descrivere l'evoluzione delle tue routine nel tempo ad esempio dopo esserti reso conto dell'importanza di creare delle routine quali erano le prime abitudini che hai sviluppato e quali ritieni più importanti oggi e c'è qualcuna che hai sviluppato che però dopo qualche tempo hai smesso di considerare importante e utile per questo l'hai tolta questa è una fantastica domanda veramente perché se uno capisce questa cosa che sto per dire ha veramente la soluzione a tante cose e lo vedo attenzione allora momento cruciale sì anche parlando posso metterti grande no ho sbagliato mi sono messo io grande come si fa? non lo so no così è sbagliato no non si può fare vai tranquillo volevo ok e anche Johan il creatore di France Authentique ne parliamo sempre di questa cosa e penso che è la cosa che ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto in questi anni che personalmente dal 2012 avrò registrato più di 800 video tra i vari canali che ho fatto più ho creato i 5 corsi più podcast più insomma le lingue gli allenamenti correre la maratona tutte queste cose non sarebbero state possibili senza questa questa abitudine routine la prima che mi ha trasformato allora questa routine che sto per dire praticamente viene chiamato diciamo keystone habit sai tipo nel sai quando c'è una volta un arco a volta e c'è il come si chiama quello in mezzo che tiene su tutto tipo nell'arco non mi ricordo si studia in storia dell'arte quel mattone centrale che se lo togli va tipo giù tutto comunque quello è il keystone habit e praticamente non mi viene in mente adesso dimostra la mia ignoranza no ma anche la mia ma in sostanza è la la routine del mattino è la prima cosa che ho cambiato che ho testato quando avevo 16-17 anni è una chiave di volta tra l'altro una chiave di volta esatto la chiave di volta delle abitudini bravo esatto c'è anche nei commenti qualcuno che la chiave di volta praticamente è svegliarti prima di quando tu reagisci al mondo questa abitudine è quella che proprio perché è keystone habit che causa tutto il resto del giorno di essere migliore se tu parti la mattina reagendo apri il telefono o il computer o le mail ti arrivano i problemi degli altri come prima cosa da lì vai in modalità di reagire da lì per il controllo della giornata capire questo e testarlo ogni anno della mia vita non è mai mancato ho avuto periodi senza riuscire a farlo e ho visto quanto schifosa stava diventando la mia vita a livello mentale fisico nutrizione tutto senza questa abitudine quindi praticamente è svegliarti dire qua è quando devo iniziare le cose della vita che non posso ignorare e dire prima di quello mi prendo questa ora due ore tre ore mezz'ora in base alla tua vita di abitudini che scelgo attentamente per partire in modo giusto con la testa con la nutrizione e con il lavoro ti faccio un esempio di quando ero a scuola da bambino pazzo che ero dovevo andare a scuola alle sette prendere l'autobus sto parlando di 16-17 anni e mi sono detto volevo testare questa cosa quindi mi svegliavo alle cinque cinque e mezza per fare un allenamento prima di andare a scuola leggere un po' di un libro imparare un po' le altre lingue che stavo imparando fuori e poi arrivavo alle sette a prendere l'autobus che mi mettevo i podcast di francese eccetera quindi un'ora di podcast positivi di lingue arrivavo alle otto che i miei amici erano lì così palle sta vita di merda io ero lì così ehi buongiorno perché ero già sveglio da tre ore poi ovviamente arrivavo alle due che ero morto quindi dormivo tre ore il pomeriggio però pur di avere questa cosa la mattina ho fatto una cosa che non si dovrebbe fare che era andavo a dormire a mezzanotte l'una due o tre e mi svegliavo alle cinque ma perché avevo visto quanto cambiava la mia giornata nel fare quelle prima ore due ore giuste nella mia mattina tutto il resto nutrizione della giornata come facevo le altre cose durante la giornata diciamo la motivazione che avevo di fare certe cose nel modo giusto dopo allenarmi insomma tutta una serie cose la freschezza nell'apprendimento di mattina non il pomeriggio e tutto questo beneficiava in un modo assurdo quando cadeva la mia routine del mattino che è cambiata e cambierà per sempre tutta la vita è in continuo cambiamento se nascono bambini se ti sposi se vivi da solo cioè adesso devo lavare i piatti o pulire il pavimento o ne capisco o il tipo che mi chiama che non va l'aria o che non va il campanello e che non va però quando non c'ho quella tutto cade quindi quella diciamo è quello che mi ha fatto evolvere in tutto il resto poi è la cosa più importante di tutte poi tutto il resto in base a quando lavori come lavori puoi mettere le lingue la mattina le lingue il pomeriggio studiare di là è tutta una scelta quindi tu ti alzi alle 5 e mezza ho appena ripreso devo essere onesto che l'anno scorso non sono riuscito è stato un anno molto incasinato per tante cose che non sto qua appunto problemi personali burocratici insomma tante cose e non sono riuscito a farlo e mi sentivo malissimo con me stesso perché sapevo i benefici del farlo solo che per una ragione per un'altra perché ero in casa ancora dei miei genitori con la mia futura moglie avevamo solo una stanza non riuscivo a impostarmi perché non avevo il mio spazio stavo come dicevi prima sai qual è la chiave però non riesci come dire non riesci a farlo non riesci a fare quello che funziona che sai che funzionerebbe assolutamente e quindi è impazzivo proprio per questo però sì ecco per essere onesto devo dire questa cosa vari periodi della mia vita non sono riuscito per questo che dico appunto quanto speciale è averlo e non bisogna svegliarsi ai 5 mi svegliavo le 3 e mezza un video dove mi svegliavo le 3 e mezza l'ho fatto per due anni tra le 3 e mezza e le 5 dove quasi sempre mi svegliavo in quegli orari perché ero impazzito volevo arrivare alle 8 che mi ero già allenato ho imparato due lingue tedesco russo e volevo già aver letto un libro mezz'ora volevo già aver fatto un pasto e insomma lì ho esagerato e non era sostenibile però quando vedi quanto è bello avere quelle ore dove nessuno ti disturba e fai il lavoro più importante tipo di crescita anche di creazione che non riesci a fare di giorno perché hai tutte le telefonate distrazioni dici cavo voglio di più di questo e la tendenza è sempre ad andare indietro togliendo la fatica gli occhi che ti lacrimano i primi 10 giorni che devi riabituarti a un nuovo ritmo diciamo quindi ci metti 10 giorni per instaurare una routine così allora 10 giorni quello che dico chi prova queste cose è considera 10 giorni dove ti svegli se non l'hai mai fatto ti senti un po' la merda e di non andare dritto alle 5 fai 15 minuti prima poi lo tieni 3 giorni 15 minuti prima poi lo tieni 3 giorni se no veramente ti senti proprio una non lo dico una cacchetta quindi gradualmente fare queste cose se no fallisci di sicuro ma se qualcuno ha voglia può farlo cioè non è Davide nemmeno un può farlo tutti possono c'è Johan che quando aveva Johan come ha detto il fondatore di France Autentic e la sua storia è molto interessante lui aveva due bambini piccoli lavorava in Austria a tempo pieno dalle 8 di mattina alle 6 andava a lavoro in bici quindi partiva alle 7 si svegliava alle 5 e lavorava un'ora sul suo progetto online cioè non so se ci rendiamo contro la difficoltà di fare una cosa così e ogni giorno così costruire quello che ha costruito online dopo 5 anni ha lasciato il suo lavoro principale grazie a questa ora al giorno di sì è vero ho sentito questa idea da tante persone che se soprattutto se hai un lavoro o se hai una vita cose che devi per forza fare ma ci sono cose che vuoi fare per te stesso è meglio svegliarsi prima e farle la mattina perché poi dopo il lavoro non hai energie e non hai sbatta non hai voglia e non le fai poi Davide ci tengo a dire che ognuno fa quello che vuole nel senso che io sto dicendo la mia esperienza ma ho avuto periodi dove anch'io dicevo adesso mi sveglio alle 9 non riesco a fare questo era un periodo dove andava bene alle 9 però nei weekend continui ad azzare cioè ti alzi sempre alle 5 e mezza sono in una fase dove sto decidendo perché la mia motivazione è pericolosa a volte esagero e adesso ho anche una vita con mia moglie mia famiglia amici e varie cose compromessi che possono succedere nei weekend e voglio una cosa sostenibile quindi sto adesso ragionando se tenere 7 8 9 come flessibilità metti che un sabato vai a dormire alle 2 perché è venuto un amico a trovarti non devi nemmeno suicidarti se vuoi svegliarti alle 7 9 8 cioè ma nessun problema cioè è che io sono pericoloso perché sono molto motivato a volte tipo voglio fare le cose so quanto è bello ma non è non è una regola cioè sto solo dicendo che cioè chi vive di notte cioè va benissimo la mia tendenza naturale è stare sveglio fino alle 4 di mattina e dormire fino a mezzogiorno quella è la mia natura penso un po' la tendenza di tutti cioè di tante persone grazie o per colpa di questi che ci tengono in piedi sempre però no quello che volevo dire io per me è difficile ma magari è difficile per tutti in realtà non so io penso io penso che alla fine cioè dipende come usi le ore alla fine il numero di ore è più o meno lo stesso se ti alzi alle 8 se ti alzi alle 5 però effettivamente è vero quello che hai detto che e non ci avevo pensato che se ti alzi prima hai ore di pace e di calma senza nessuno che ti rompa pensavo a una cosa stupida che mi sveglio alle 8 così e ci sono già i lavori qua sotto ci sono sempre i lavori che martellano e trapanano tutto il giorno con qualche pausa però se mi alzassi prima magari non li sentirei perché non hanno ancora iniziato Davide guarda ci abbiamo qua un giardiniere che si sta divertendo in questi giorni viene con lo sparafoglie quindi ti capisco assolutamente qui zona lago di Garda d'estate c'è sempre un giardiniere in giro o camionetto dello sporco che fanno un bel casino quindi ti capisco e sì negli orari appunto tra le 5 le 7 comunque sei libero anche da quello e è molto utile perché adesso in particolare prima facevo una routine piacevole diciamo proprio lettura lingue così recentemente ti chiede anche tutor linguistico se ci sono attività più adeguate a questo primo periodo mattutino allora sì adesso infatti stavo per dire questo io in passato imparavo le lingue a quell'ora e ho deciso recentemente di mettere in pausa le mie lingue perché ho troppo sul mio piatto ed è una scelta che mi dispiace tantissimo perché era cioè tipo io mi ero messo un obiettivo di imparare 20 lingue entro i 30 anni ho capito che adesso che sono sposato che ho una casetta ho tante cose una cagnolina devo visitare la mia nonna famiglia qua compromessi lavorativi e tutto devo dare priorità proprio italiano automatico e mantenere le lingue che su cui ho lavorato prima di mettermi seriamente a fare altre quindi quello non è più un'attività ma le lingue potrebbero essere benissimo un'attività che inserisci nel tuo momento di calma mattutina magari per fare quelle attività appunto che distinguono questa attività più per attivare il tuo parlato magari qualcosa come un'attività di shadowing che proprio devi metterti lì con davanti il testo mentre l'ascolto lo puoi fare durante la giornata insomma magari attività che supportano anche la tua attivazione del parlato nella lingua se non hai un vicino che ti manda perché sulle 5 di mattina sì 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 nel mio caso non sono i vicini sono proprio i lavori della città stanno rifacendo tutte le tubature del gas quindi e sarà così per un po' ma spero che almeno in questa strada finiscano prima o poi perché da un mese assolutamente ma essendo a Torino è quello il rischio delle grandi città se becchi se becchi lavori quello c'è poi l'altra attività che ecco appunto prima io facevo attività piacevoli proprio mi guardavo una serie di lingue leggevo libro così proprio subito le prime 2-3 ore e mi allenavo ora invece sto facendo una cosa che non ho mai provato e che mi sta piacendo è più difficile però faccio 15 minuti le cose proprio base leggo un attimo una cosa positiva mi bevo il caffè e via subito dopo 15 minuti sulla cosa più difficile che devo fare per aiutare diciamo a crescere l'italiano automatico cosa vuol dire crescere l'italiano automatico può voler dire lavorare su dei materiali gratuiti nuovi script di video difficili o creazioni di nuovi corsi proprio la struttura le cose che io devo scrivere che so solo io e che devo pensare proprio bene in base a come uno può imparare la lingua nel migliore dei modi cioè queste cose che si tendono a rimandare perché sono proprio quelle che sono più difficili alle 5 e mezza 5 e 50 di mattina che c'è qua tutto silenzio cavolo devi solo passare quei primi 3 minuti di entrare nel ritmo poi vai un'ora e mezzo perché io faccio 90 minuti con questo timer mi metto guarda tipo faccio così ho i 90 minuti così non ho bloccato anche tipo tutte le cose distrazioni proprio al lavoro tipo che potrebbero essere facebook sul computer insomma varie cosette per resistere le tentazioni e via vado devo fare questi 90 minuti poi so che la giornata non sono stressato perché ho fatto la cosa più importante per fare questo progresso nella mia vita lavorativa proprio della cosa più difficile il resto è facile cavolo la cosa più bella per me andare su youtube guardarmi i commenti positivi rispondere quello è divertente questo di metterti 90 minuti scrivendo ma è quello che aiuta di più i miei studenti per la creazione di nuovi contenuti perché hai capito non tanto i commenti commentare così cioè la cosa che ha un impatto maggiore sulla tua attività è la cosa più difficile da fare esatto o anche come posso migliorare le cose che stanno usando gli studenti nei corsi o come posso rendere il video su youtube più utile e tipo di recente ho riaggiunto diciamo i sottotitoli proprio incollati sul video youtube perché molti studenti vogliono anche scaricarsi il video se lo guardano offline e se lo scarichi e hai i sottotitoli è più difficile diciamo trasportarsi nelle cose quindi queste cose ti vengono in mente sono piccoli dettagli ma anche pensando da solo tipo ti metti lì e pensi veramente cosa sono le cose di cui hanno più bisogno adesso che sarebbero anche più efficaci per il mio tempo per il loro per l'apprendimento capito queste cosette ti vengono spesso quando siamo anche in silenzio ed è difficile trovare silenzio adesso perché anche questa cosa sono d'accordo con questa affermazione a parte a parte i muratori sotto casa ma intendo anche Davide il silenzio quello di cui parlava Car Newport nel libro Digital Minimalism quel silenzio appunto di non avere input esterno ma di metterti tu e pensare su una cosa di proprio tu pensare pensare proprio penso sia la cosa che non stiamo più facendo perché tra prendere il telefono computer o chiamare un amico ogni secondo abbiamo input di qualcosa e non non fermiamo le cose esterne per pensare potrebbe esserci il tipo lì che ti rifà la strada davanti ma tu il concetto è di metterti tu lì a pensare a parte quanto sei incazzato di pensare a qualcosa da proprio pensare con ciò che tu sai e hai imparato nella tua vita pensare come migliorare le cose o a fare pensieri cavolo è una cosa difficile adesso con tutto ciò che abbiamo sì 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 e poi il rischio anche che imparando una lingua straniera uno magari può giustificare le perdite di tempo tra virgolette con i momenti produttivi e c'era una persona sopra che mi diceva che diceva se non sbaglio vabbè però se sono contenuti in lingua straniera che guardi in realtà è comunque utile e io dico mi perché sì certo è utile in un certo senso però io spesso mi sono trovato a di fatto perdere tempo perché dicevo ah però sto imparando è tutto apprendimento Davide mi mettevo anch'io a guardare tipo una serie russa che si chiama Kuchnia mi guardavo ah l'ho guardato anch'io mi mettevo guardavo dieci episodi sto imparando il russo poi non capivo metà di quello che dicevano ma mi piaceva in realtà non era nemmeno il meglio dell'apprendimento perché sai anche tu che comunque devi scegliere un tipo di materiali che ti dia una comprensione abbastanza alta da o avere un transcript insomma e io ero lì perdevo tipo tre ore mi guardavo dieci episodi pensavo di e quello non è diciamo il massimo meglio di perdere il tempo in un altro modo meglio però ah sì chiaro chiaro però però è comunque cioè se hai altre priorità sai come quando sai la procrastinazione non so se c'è un nome la procrastinazione che in realtà non è del tutto inutile perché ti metti a fare cose che prima o poi devi fare e quindi magari al posto di fare il video dici almeno io lo faccio ah però magari posso rispondere a queste email o posso rispondere a qualche commento posso risolvere questa cosa certo sì in realtà è un modo di fuggire dalla mia da quella cosa da quella cosa più difficile appunto che dovresti fare che penso che per te qual è la cosa Davide più difficile in questo momento per migliorare la tua attività online per gli studenti la cosa più difficile non so diciamo che faccio cose cose che sono diverse tra di loro se intendi tipo di materiali per esempio alcuni episodi li scrivo ecco per esempio ci sono delle cose che a volte non conosco per esempio devo fare della ricerca su alcune cose e quello è una cosa abbastanza complicata perché per esempio io stavo facendo adesso sto lavorando su un episodio sulla storia della lingua italiana e ho fatto una prima parte tempo fa e però io non so tantissime cose cioè davvero devi leggere devi metterti lì è difficile non è che posso cioè da un lato c'è la tentazione di dire ok parlo per mezz'ora di qualche non so qualcosa che succede nella mia vita è molto più semplice boh però volendo fare anche quel tipo di contenuto è più difficile poi anche scrivere a volte cioè per me è molto difficile scrivere scrivere un episodio cioè non sono penso che nessuno sia bravo a scrivere nessuno nasca bravo a scrivere è davvero un'abilità che bisogna sviluppare che io non so cioè trovo molto difficile poi ci sono altre cose altri task altre altre come dire altre cose che sono più noiose che rimandi no tipo i sottotitoli che se riesco non li faccio io adesso li faccio fare altre persone perché odio farli davide io ho passato 300 giorni a farli ogni giorno e tradurli in inglese che era per il video del giorno penso di non voler più vedere un sottotitolo nella mia vita no ma ti capisco ti capisco e poi adesso non li fai tu adesso hai smesso da tempo fortunatamente adesso tipo mi sveglio appunto presto per essere produttivo in altre cose in modo da poter chiedere aiuto per i sottotitoli perché no era veramente non ce la facevo più c'è troppa troppa roba capito troppa roba da seguire è terribile e poi quando inizi ad avere episodi di mezz'ora 40 minuti buona fortuna poi Davide mi sono fatto una domanda io lo volevo fare come orgoglio mio perché dicevo in ogni video vi sto scrivendo il sottotitolo eccetera poi ho pensato siamo un attimo ragiona un attimo Alberto cosa cambia al tuo studente o a chi ti guarda se il sottotitolo l'hai scritto tu o un altro cavolo non cambia niente per lui è contento uguale anzi magari trova meno errori perché io ero anche stanco dopo aver fatto l'editing e tante altre cose e facevo errori nei sottotitoli anche se ricontrollavo tipo di scrittura cioè capito quindi ho detto è proprio all'inizio va bene anche il fatto che non potevo permettermi un aiuto quella era la verità e quindi dovevo avere pazienza proprio fare i sottotitoli più essere produttivo più migliorare me stesso proprio perché è la storia di tutti a meno che ti trovi non so uno che ti regala 100.000 euro e dici allora ok paghi chi vuoi se no devi proprio trovare il modo di tu fare tutto e poi nel tempo avere qualcuno che ti aiuta e quindi diciamo era proprio questa domanda mi sono fatto cambia qualcosa al tuo studente farli tu o no no cambia niente anzi io userei quel tempo per fare un'altra cosa ancora più utile magari registrare un video in più è quello che ti fa le cose che devi fare davvero tu che non puoi delegare esatto i sottotitoli li puoi delegare senza problemi esatto senti Alberto mi sa che abbiamo già sforato abbiamo parlato un bel po' quindi forse possiamo possiamo concludere qui e niente mi ha fatto molto piacere averti c'era che diceva presto un'altra live per favore assolutamente quando vuoi adesso non domani però no mi ha fatto super piacere Davide ti faccio complimenti per tutto quello che fai per il modo in cui organizzi queste chiamate le rendi interessanti non le pianifichi prima così che vai con il ritmo della persona con cui parli e ti adatti sì io ho delle domande in realtà però credo che di queste domande ce ne abbia fatte forse la metà se va bene un terzo ti dai la base per il caso serva ma se no vai molto per il ritmo quindi se non c'è nessuno nessuno fa domande la conversazione fa schifo c'ho delle domande almeno come esatto come sicurezza assolutamente assolutamente e no quindi ti complimenti di nuovo per tutto per il podcast penso il tuo sia uno dei podcast comunque anche di più visti su itunes eccetera ogni persona che conosco che ascolta podcast in italiano cioè uno su due ascolta il tuo quindi complimenti mi fa molto piacere sì complimenti perché se lo ascoltano è perché è interessante piacevole utile e quindi non è facile fare quello che stai facendo quindi veramente grazie mille è stato un onore grazie a te un onore essere qua e complimenti a te ci scambiamo un po' di complimenti sono alla nonna e c'era qualcuno che chiedeva come sta sì se vedi tua nonna da quando se vedevo mia nonna l'ho vista quattro giorni fa se non sbaglio quindi tranquillissimi che ogni settimana in un modo o nell'altro sono là per varie ragioni o trovare la mia famiglia eccetera e la chiamo fortunatamente la tecnologia qua è bella le ho messo un ipad lì aperto già dove lei deve solo fare così e riesce a aprire la chiamata e la vedo su facetime quindi perfetto è assolutamente lì con allora la prossima diretta con la nonna su facetime sì assolutamente in realtà le persone non sono qui per te ma per tua nonna ma di sicuro guarda io penso che la nonna sia bellissimo averla avuta è stata una cosa molto casuale ma guarda io stesso quando non ci sarà più mi rimetterò a guardare i video perché mi fa troppo ridere cioè troppo forte beh è anche bello poi che hai come dire così tanti cioè 300 video che alla fine no sono un ricordo anche magari tra 30 anni li riguarderai guarda dicevo proprio Isa quando avremo figli o nipoti cioè noi potremmo dire guarda questa era la mia nonna e così e guardarli assieme è una cosa molto bella perché perché per tutta la mia vita avrò qualcosa che molti non hanno un ricordo dei propri nonni vero in video senza farlo apposta proprio perché è stata una cosa molto graduale così casuale e quindi sì ma quello sono contento sì perfetto dai allora ti saluto buona fortuna in bocca al lupo con la casa con tutto con i tuoi nuovi progetti e quando passi di qua fammi sapere assolutamente prossimo che vieni a Torino fammi sapere e niente anche tu Davide se passi zona Lago di Garda più sulla sinistra Lombardia che sulla destra mi fai sapere che io sono qua per questi mesi quindi si sa mai faccio qualche giorno a Lago di Garda poi vengo da te non è male come posto ti posso dire sei stato spesso? spesso no qualche volta sì però non non so neanche l'ultima volta che ci sono stato qualche anno fa Garda ovvio sì sì però però non non è un posto dove vado tutti i giorni diciamo perfetto capito capito grazie ancora allora ci sentiamo salutiamo tutti ringraziamo ovviamente tutti i nostri carissimi fantastici bellissimi studenti di italiano esatto make a vlog of Lago di Garda aspettiamo anche di vederlo assolutamente dai allora alla prossima buona serata a te Davide grazie mille ciao a tutti ciao 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 dunque ragazzi allora volevo ancora dirvi due parole per chi rimane chi mi consigliate di intervistare dopo Alberto ho visto che tante persone hanno mi hanno detto Graziana e Rocco e dato che ho intervistato già tante persone qui nella comunità di YouTube di insegnamento dell'italiano fatemi sapere se vi vengono in mente altre persone e e niente niente vi ricordo che comunque potete risentire tutte le le Lucrezia Lucrezia ho già parlato con Lucrezia ragazzi vi siete persi vi siete persi da diretta con Lucrezia ho già parlato con Lucrezia se andate nella descrizione c'è una playlist delle conversazioni in diretta che ho fatto quindi ho già parlato con un po' di persone e niente quindi io non sto vedendo i vostri commenti magari mi state rispondendo però non li vedo qua quindi devo vedere ok Pierluigi magari Pierluigi Matteo e Katie is Italian children and young ones ci sono se intervisto i bambini su YouTube c'è qualche problema di non è una buona idea perché sì non è una buona idea insegnanti italiani all'estero Pierluigi ok vedo tante persone che dicono Pierluigi sgrammaticando Francesco di Vaporetto Manu Italy Made Easy Pierluigi Matteo e Katie Luca Lampariello ho già parlato con Luca Lampariello andate a risentirla Lucrezia ho parlato con Lucrezia Linda di Pensieri e Parole ok quindi ok va bene allora grazie grazie per i vostri consigli vedo che Pierluigi è molto molto gettonato quindi niente allora ok ci sono due ragazzi che hanno un podcast chiamato l'italiano vero non è un italiano vero è un'altra cosa credo credo che Roberto sia una persona sola Francesco di Vaporetto pure Veronica di One World italiano Pierluigi i tuoi mi piace il commento i tuoi sì magari magari sì magari intervisserò i miei genitori va bene ok questo era un piccolo sondaggio grazie ancora per essere stati essere stati qui e allora in realtà ho un'intervista un po' insolita che vorrei fare non so se mi sta seguendo con un ragazzo che è un ragazzo americano statunitense che parla il latino e forse l'avete visto se guardate il canale Ecolinguist è un ottimo canale Ecolinguist fanno questi esperimenti di mutua intelligibilità tra lingue quindi quanto capisce uno spagnolo un portoghese e un francese dell'italiano senza saperlo cose di questo genere c'era un esperimento con la lingua latina quanto capisce un italiano uno spagnolo e un credo brasiliano ascoltando il latino c'era questo ragazzo che ha un ottimo canale chiamato Scorpio Martianus dedicato al latino e cioè questo ragazzo parla il latino ecco quindi magari intervissero lui per cambiare un po' per per portare anche ospiti un po' diversi e e niente vi consiglio il suo canale se se vi interessa qualcosa di diverso e siete siete dei nerd come me e vi interessa vi interessano anche mi interessa anche il latino e queste cose detto questo basta concludo qui la diretta grazie per essere stati con noi e ci sentiamo ci sentiamo non so quando ma molto presto ciao ciao ciao